Musica Grande emozione per la conclusione del backstage dedicato alla realizzazione del calendario di Napoli Fashion Week che sarà presentato ufficialmente sabato 29 gennaio nella location di eccezione di Villa Lucrezio. L'appuntamento sarà poi l'occasione per raccontare l'evento che si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2022 presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Si è trattato di un vero e proprio tour vissuto nel cuore di Napoli che ha fatto tappa di posti simbolo della città, dalla sanità passando per il centro storico di San Gregorio almeno e poi ancora piazza del plebiscito, le famose scale di Santa Barbara senza dimenticare le scale e i piazzi di Fiaforia rese disponibili grazie al sostegno del sindaco Gaetano Malfredi e all'assessore Teresa Armato che hanno concesso all'iniziativa il patrocinio del comune di Napoli. Un applauso va anche all'associazione scale di Napoli rappresentata dal dottor Carmine Maturo da sempre in prima linea nel valorizzare le bellezze della nostra terra. Autore di questa iniziativa il noto art director e patron dell'evento Napoli Fashion Week 2022 Alessandro Di Laurezio, famoso fotografo di moda e autore delle bellissime fotografie del calendario. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS